La Mirial è oggi un grossissimo gruppo industriale, una grande software house, ovviamente fra il suo core business c'è anche il software per la progettazione edilizia e non può certamente mancare ad appuntamenti importanti quale può essere il SAIE sia quando sia a Bari che quando è a Bologna. Chiaramente il SAIE Bari è un ottimo momento d'incontro per poter trovare clienti e potenziali clienti del settore in tutto il sud Italia ed è diventato un elemento centrale dell'attività del professionista in Italia. Facciamo parte di diverse associazioni in Italia, io in particolare sono il presidente anche dell'associazione italiana Software Tecnico che racchiude oggi 10 fra le principali software house in Italia e certamente comprende un buon nutrito numero di clientele e di professionisti del settore in tutta Italia. Come ogni fiera Namiria rappresenta sempre tante cose, Namiria è in continua ricerca ed è in continua evoluzione, abbiamo un portafoglio prodotti di assoluto livello probabilmente compatibile con le prime due software house in Italia e ovviamente come è argomento del giorno, del momento ovviamente ci stiamo dedicando molto allo sviluppo dei prodotti in ottica BIM. È da poco infatti che abbiamo fatto una grande partnership con Graphisoft tramite la quale oltre ad avere un architettonico con motore Archicad ma totalmente di Namirial stiamo facendo in modo di creare tutto un set di prodotti di progettazione tutti integrati con Archicad per una progettazione veramente BIM e totalmente completa.